Parliamo di Fiorello Ok, vai 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 che ci siamo eh Dai, 20 secondi Disannuncio, talk Nuova canzone e poi moriamo tutti Vai E' Sunday Hearts qua su Radio Power Station Siamo tornati Buongiorno a tutti quanti amici di Radio Power Station Voglio fare un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando Tramite il nostro sito ufficiale Ma soprattutto anche tramite la nostra applicazione iPhone, mi raccomando ragazzi Scaricabile dall'Apple Store gratuitamente Allora Ale, buongiorno anche a te Come stai? Buongiorno, bene Sempre raffreddata eh Ieri sera che hai fatto? Sei stata a casa? Sono stata a casa a guardare la televisione Oh, e che cosa ti sei vista? E che cosa io sono vista? Mi sono vista Fiorello, pure te, vero? Il più grande spettacolo dopo il weekend Bellissimo, ma lo sai che abbiamo dei dati? Sì Sai quanti ascolti ha fatto ieri? No, dimmi un po' 13 milioni 13 milioni di ascolti Sì, che equivale al 42,60% di share Quindi ha fatto molto di più della prima puntata Molto di più della prima che non arrivava ai 10 milioni eh Ammazza Veramente, vabbè, ma Fiorello perché è Fiorello È Fiorello e infatti sono tutti molti entusiasti alla RAI Per il suo ritorno dicono che è il più grande spettacolo degli ultimi anni Mamma mia, grande Fiore E ovviamente il grande fratello, penso, immagino che sia stato Siamo così Distrutto proprio Sì, è un po' distrutto, sì Vabbè, dai, a me però è stato in paia, le stiamo ascolti Sì, sì, anche Ma tra l'altro poi lui di sé ha fatto anche uno sketch su il grande fratello Eh, esatto, esatto È stato un grande, dai Però il più grande spettacolo dopo il weekend non si batte, non si batte ragazzi No, no, è benissimo Comunque, noi salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando Soprattutto Fabio e Stefano che si sono messi in collegamento Noi gli dedichiamo il prossimo disco che è anche la sigla ufficiale Mi sembra, vero? Non a caso, non a caso C'è Giovanotti E tu sai quanto io amo questo cantante e questa canzone Arriva Mr. Cherubini con il più grande spettacolo dopo il Big Bang Qui su Radio Power Station Il più grande spettacolo Grazie a tutti Grazie a tutti.